Sanità Pesaro interroga Acquaroli sul nuovo ospedale. Donna trovata morta in casa il decesso risale a un mese fa. Montelabattese quattro auto coinvolte in un maxi incidente. Segnalazioni spariscono gli unici parcheggi di via Giordano Bruno. A Pesaro Vincenzo Placida che corre per l'Italia contro una malattia rara. Buona serata, ben ritrovati su Rossini TV. Questo è il nostro appuntamento con l'informazione, il nostro telegiornale che vedete alle ore 19.40 in replica alle 20.40. Oggi è martedì 3 maggio e apriamo questa edizione occupandoci di politica sanitaria. Il nuovo ospedale di Muraglia infatti sarà al centro del Consiglio Comunale straordinario convocato per domani a Pesaro alla presenza del Presidente Francesco Acquaroli, ospedale che come possiamo vedere in questo primo servizio sta anche studiando nuove destinazioni per i servizi sanitari che dovranno interrompersi una volta cominciati i cantieri. Vediamo. domani sera Pesaro saprà qualcosa di più del futuro della sua sanità. Dalle 16 del 4 maggio è infatti previsto il Consiglio Comunale monotematico su politica sanitaria e realizzazione nuovo ospedale a Muraglia con la presenza a Pesaro del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Si punta dunque ad avere chiarimenti dall'amministrazione regionale deputata alla politica sanitaria del percorso attuale fra problematiche del personale, mobilità passiva, riapertura di reparti a Pesaro e il tema futuro della realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia. Oltre agli ordini del giorno dei consiglieri è prevista anche mezz'ora di intervento di Acquaroli e mezz'ora di Ricci che sul nuovo ospedale ha più volte chiesto che una volta individuato il contenitore, ovvero Muraglia, si chiarisca il contenuto. Senza pra di più anche per quel che riguarda i tempi di un plausibile cronoprogramma. Intanto si cominciano a definire i servizi da trasferire in previsione dell'avviamento del Maxi Cantiera Muraglia. Soprattutto l'Asur si avvia un trasloco definitivo di servizi quali Psichiatria che andrà al Santa Croce di Fano, la RSA Tomasello che passerà a Santa Colomba e due comunità protette che andranno in direzione Monbaroccio. Altri servizi rientreranno ad Asur nella nuova sede che si sta cercando in alternativa alla vecchia sede di corso 11 febbraio. Ci saranno poi servizi che passeranno al San Salvatore come le degenze di ortopedia, ematologia, diagnostica senologica o diabetologia. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di una morte in estrema solitudine, quella di una donna di 61 anni di Pesaro che è stata trovata senza vita nel letto di casa a più di un mese dal decesso. Una tempistica che è stata constatata dall'esame medico avvenuto ieri in un villino in Viale Trento, in zona mare, casa di proprietà della donna. Un'abitazione in cui sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco allertati da un inquilino che non vedeva la proprietaria di casa da settimane. Una donna che conduceva una vita estremamente ritirata e che ha come unica parente un'anziana sorella che ora è ricoverata in una casa di riposo. Le immagini che vi mostriamo ora in questo momento si riferiscono ad un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 20.30 sulla Monte Labattese all'altezza di chiusa di Ginestretto. Quattro le auto coinvolte di cui una si è rovesciata, quattro anche le persone ferite, nessuna delle quali in pericolo di vita. L'incidente è stato innescato da una Jeep Renegade che per cause ancora da chiarire ha invaso l'opposta corsia, centrando una Ford Focus con a bordo una donna e la sua figlia minorenne. Utilitaria che ha perso il controllo urtando altre tre auto prima di rovesciarsi a bordo strada. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118 che ha trasferito i feriti al pronto soccorso. La Guardia di Finanza di Urbino ha sequestrato 60.000 euro ad un imprenditore indagato per evasione fiscale. Si tratta del titolare di una ditta di fabbricazione di mobili per arredo domestico che è stato denunciato per omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2014 e per distruzione e accultamento delle scritture contabili. Le fiamme gialle sono però riuscite a ricostruire i reali guadagni occultati al fisco. Sono state quindi sequestrate liquidità dai conti correnti, un'automobile e quote di un'altra società riconducibile all'indagato. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a inviarci foto, video oppure messaggi per denunciare le cose che non vanno. A questo numero di Whatsapp 370-366-7210. Oggi siamo andati nella centralissima via Giordano Bruno. Vediamo. Rossini TV torna ad accendere le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori. Oggi ci troviamo nella centralissima via Giordano Bruno, strada del centro storico che ospita la questura e che sfocia in Piazza del Popolo. Una strada e una questura che da tempo in membro sono adombrate da cantieri. Ora di lavoro si ne aggiunge un altro da questo mese di maggio, dal lunedì 2 in particolare. È partita la ristrutturazione dell'edificio che vedete alle mie spalle del Civico 18. Ruspe al lavoro per una demolizione che ha però un effetto collaterale sintetizzato in questo segnale stradale. Quello di un'altra sottrazione di parcheggi, circa una dozzina per quello che riguarda la piazzetta compresa fra la via e il retro del mercato delle erbe. Un divieto di sosta che è cominciato questo lunedì e che durerà fino alle 31 dicembre, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18. Sette mesi di divieto che naturalmente creano problemi ai residenti e alle attività che sono in questa zona. Residenti che, va chiarito, non contestano tanto la sosta quanto l'assenza di preavviso. Nessuno ha ricevuto comunicazione preventiva e solo apparso il cartello a pochi giorni di distanza dal via del provvedimento che ha data 29 aprile. Questa cosa ci è un attimino lasciati spiazzati perché non siamo stati preavvisati di nulla e ci dobbiamo arrangiare un po' per conto nostro a trovare dei parcheggi alternativi a questa cosa qua. Per poter parcheggiare alcuni di noi hanno anche degli oboli, nel senso che il comune ci chiede di pagare un tot per poter accedere con le nostre macchine alla ZTL. Non siamo stati avvisati preventivamente che ci sarebbero state queste modifiche ai parcheggi in modo tale che noi ci potevamo organizzare in merito. Invece così ci dobbiamo organizzare un po' all'impronta, riuscendo di prenderci delle multe perché parcheggiamo in zone che non sono noi consentite. Una segnalazione ai residenti di Villa Ceccolini e di parte di Montelabate che domani, mercoledì 4 maggio, è prevista una sospensione del servizio idrico per importanti opere di ammodernamento di marche multiservizi relative a nuove reti di collegamento di acqua e gas. Nello specifico è prevista la sospensione o il calo dell'erogazione dell'acqua dalle 9 alle 18 a Villa Ceccolini in strada della Chiusa, via Lago Maggiore, via Lago di Como, via Lago di Lugano, via Lago di Resia e anche a Montelabate in via Risara fra via del lavoro e strada della Chiusa. Dal 1 maggio il comando unico di polizia locale gabice mare gradara a un nuovo comandante e Stefano Bravi, 48 anni, romagnolo di bagno cavallo, sino a pochi giorni fa commissario al comando di polizia locale di Ravenna. I sindaci di gabice mare e gradara, Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi, hanno accolto il nuovo funzionario ringraziando il comandante uscente Luciano Loccioni, chiamato alla direzione della polizia locale di Falconara. E ha compiuto 50 anni di attività la trattoria Il Pergolato da Maria o più comunemente conosciuta dai pesaresi come la Maria di Novilara, un vero punto di riferimento per l'enogastronomia della città che oggi è stata premiata dal comune di Pesaro per il suo mezzo secolo di ristorazione. Gli assessori comunali Vimini e Frenquellucci hanno premiato quindi Maria Mencarelli e i suoi collaboratori per il suo prolungato lavoro di qualità che dura ininterrottamente dal 1972 Ha cominciato a correre dal Veneto il 25 aprile e sempre di corsa arriverà fino in Vaticano e questa è la missione di Vincenzo Placida che corre per l'Italia per sensibilizzare ad una malattia rara come la sindrome di Cornelia Delange che ha colpito la figlia. Oggi la corsa di Vincenzo ha fatto tappa a Pesaro e lo ha incontrato il nostro Edoardo Razzi Quasi 700 chilometri a piedi per un percorso dal significato molto profondo legato alla storia personale di Vincenzo Placida operaio di 46 anni che il 25 aprile ha deciso di partire dalla sua Vigo Novo in provincia di Venezia per portare alla luce la malattia genetica rara di cui affetta sua figlia Valentina di 14 anni. Il suo viaggio intrapreso quasi interamente correndo spingendo un passeggino che simboleggia sia la vicinanza della figlia ma anche un appoggio prezioso per i suoi rifornimenti attraversa cinque regioni e si concluderà a Roma il 14 di maggio. Vincenzo ha però voluto fare tappa a Pesaro considerata fondamentale perché è proprio qui che 25 anni fa è nata l'associazione nazionale Cornelia Delange nome della sindrome che dalla nascita accompagna la figlia. Era una tappa che aspettavo con ansia dal primo giorno primo perché ovviamente appunto l'associazione di qua quindi qua ci sono le nostre famiglie storiche quelle che involontariamente a cui sono siamo più affezionati sia io sia mia moglie Romina e poi anche perché è il primo giorno di riposo quindi lo aspettavo anche con voglia anche per quello ecco. Arriverò a Roma il 14 maggio che è la giornata mondiale della sindrome di Cornelia Delange che generalmente cade sempre il secondo sabato di maggio. Quindi diciamo che quando è stata pensata questa iniziativa qua abbiamo ragionato al contrario quindi arriviamo quel giorno e di conseguenza partiremo questo giorno qua e appunto non a caso scelto apposta e non a caso scelto per avere anche più probabilità di ricevere l'udienza privata del Papa perché magari in concomitanza di un evento anche così importante sarebbe potuto essere uno stimolo in più anche anche per lui che sicuramente di impegni ne ha per magari ricevere i nostri ragazzi. Il giorno prima il 13 venerdì 13 alle 10 e mezza avrò l'incontro al conico presidente Malagò e nel pomeriggio anche in comune a Roma e appunto il 14 faremo l'incontro all'udienza privata dal Papa. E infine l'ultima tappa di questo lungo viaggio si concluderà per Vincenzo con una compagna speciale. La figlia Valentina infatti seguirà il papà dalla ripartenza dal Vaticano fino all'arrivo in piazza del popolo a Roma. Una missione per cercare di sensibilizzare sulla sindrome Cornelia Delange, una malattia genetica rara che colpisce un caso ogni 45.000 lanati comportando alterazioni della faccia, delle mani e dei piedi ma anche ritardo della crescita e ritardo mentale. La ricerca negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti ma la strada da percorrere è ancora lunga. La ricerca c'è stato appunto un importante passo in avanti negli ultimi anni. Sapevamo che c'era appunto ricerca di eventuali farmaci quindi le ricerche iniziali, la fase iniziale che è basata sullo studio sugli animali e recentemente pochi mesi fa abbiamo avuto la notizia che comunque la ricerca, questa prima fase ha avuto degli ottimi, dei buoni risultati, dei risultati che permettono il passaggio alla fase successiva quindi sperimentazione vera e propria sui bambini, sui ragazzi. Questo ha fatto sì che collegassimo l'evento a questo progetto, quindi a una raccolta fondi per sostenere la ricerca perché la sperimentazione nello specifico ha dei costi molto elevati. Continuiamo a parlare di ricerca scientifica, quella dell'associazione italiana Neuroblastoma che assieme ai Lions organizza per venerdì 6 maggio il convegno dal titolo Tumori infantili pediatrici e neuroblastoma, oggi e domani. Convegno che si terrà nella sede di Intesa San Paolo di via Gagarin e che ci viene illustrato da Agostino Vastante, vicepresidente Lions di Gabice Mare. Quella del 6 maggio è un'attività informativa, noi parliamo a tutti, è un evento aperto a tutti oggi, non esclusivamente ai medici, perché le persone hanno bisogno anche di essere informate. In primis su quanto ha fatto la ricerca scientifica fino ad oggi e quali sono le prospettive future, in assoluto una delle priorità del Lions. Io poi chiaramente parlo anche da genitore coinvolto, quindi la mia è un po' una duplice veste. Ecco, in primis sicuramente un papà che purtroppo ha perso un figlio. Nel 2017 abbiamo fatto un percorso importante, duro e quindi quando io mi accingo a parlare di questi convegni, di queste organizzazioni, parliamo di tumori pediatrici, nella fattispecie tumori celebrare e neuroblastoma, lo faccio con il cuore, perché mi immedesimo in quello che in questo momento alcune famiglie stanno vivendo. E quindi solo partendo da qui si può capire quello che andrebbe fatto e come andrebbe fatto e perché è importante farlo. Purtroppo i casi esistono, sono in aumento, ogni anno ce li abbiamo e noi come Lions ci vogliamo dar da fare, vogliamo far qualcosa. Vogliamo far qualcosa in che termini? Uno nel appunto fare informazione, coinvolgere i medici dedicati a questi bambini, supportare la ricerca e in questo caso lo faremo attraverso l'associazione lotta al neuroblastoma e tumori cerebrali. Il laboratorio principale, se così lo possiamo chiamare, ha sede al Gaslini. Però questa associazione negli anni ha fatto un lavoro egregio, ha destinato fiori e fiori di quattrini a ricercatori, a giovani ricercatori e a giovani medici, mettendo nelle condizioni di fare le ricerche più appropriate, più indicate per questa patologia. Un altro obiettivo che ci poniamo è quello di creare un collegamento tra la nostra sanità, la nostra pediatria, possiamo definire un po' una pediatria periferica, con i centri d'eccellenza. È fondamentale perché il genitore ha bisogno anche di essere indirizzato, di sapere che esistono in Italia centri d'eccellenza che curano determinate malattie. Non tutti i centri in Italia possono farlo. Il Lions si spende molto, ha degli obiettivi, tanti obiettivi importanti, tra cui l'oncologia pediatrica. Però bisogna affidarci nelle mani giuste. E venerdì ci saranno anche le telecamere di Rossini TV a questo importante convegno organizzato dal Lions Club di Gabice Mare, quindi non mancate. E adesso andiamo a vedere invece la programmazione di Rossini TV. Questa sera, in via del tutto eccezionale, non ci sarà la replica del telegiornale delle 20 e 40 perché trasmetteremo in diretta la partita dell'Ital Service Cormar-Polistena contro Ital Service-Pesaro alle ore 20 appunto in diretta su Rossini TV. E vi ricordiamo anche che a partire dalla prossima settimana e tutti i martedì vedrete qua la zampa. Programma che doveva partire questa sera, purtroppo insomma in concomitanza con la partita dell'Ital Service, lo dobbiamo slittare di una settimana ma non perdetevi questo appuntamento perché poi lo vedrete fino a giugno tutti i martedì alle 21.20 il nostro programma dedicato agli animali a quattro zampe, adozioni, consigli dei veterinari e tanto altro. E poi vi ricordo anche la nostra informazione che torna puntuale e precisa domani alle 7.20 con la nostra rassegna stampa, domani ci sarò io quindi vi aspetto, buona serata e buon proseguimento.